Musica Il Consiglio regionale della Toscana 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 Quindi nell'abbracciare la famiglia, nell'abbracciare tutte le famiglie delle vittime Ovviamente vogliamo essere loro vicini con atti concreti Non con la retorica che in questi momenti forse abbonda Ma con atti concreti che possono essere davvero di conforto Anche se minimo ma di conforto per il dolore profondo Che in questo momento i familiari stanno vivendo E a loro ovviamente va il mio abbraccio Intanto sono orgoglioso, contento che il Fondo per Luana d'Orazio Affirma Marco Stella, quindi di Forza Italia Che è stato portato in Consiglio regionale Sia stato sottoscritto, quindi fermato da tutte le forze politiche E votato all'unanimità Questo certamente non basta Non basta dare un piccolo contributo Così come previsto dalla legge regionale Ai propri familiari per addolcire il dolore Se si può parlare di addolcire il dolore Perché quella tragedia lì in Toscana e in Italia E nel mondo non deve più ripetersi Ecco perché l'appello della madre Da un lato a chiarire quello che è successo Credo che debba essere accolto con estrema serietà E si debba fare il prima possibile Per accertare le responsabilità Qualora vi fossero delle responsabilità E dall'altro mettere in campo tutte quelle azioni Per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengano più Molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà Dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro E crediamo che in questo caso La regione debba andare a supporto di chi ha bisogno Perché ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più Non solo nel momento in cui vengono a mancare Ma anche per il futuro di quella famiglia Per il futuro dei propri figli E cercare di dare sollievo a quelle famiglie Che sono fortemente colpite Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta Io credo che debba rimanere a nostra memoria Tutte le volte che succede un fatto così grave E dobbiamo però anche trasformare in propositivo Cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno Perché purtroppo è stato colpito da un lutto Che non riporterà indietro assolutamente Chi non c'è più Ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro È una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare Non soltanto chiedere maggiore sicurezza Ma si deve poter fare qualcosa di più È il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto Condividendo la proposta del Presidente Stella Perché si possa fare qualcosa Istituendo questo fondo E cercando di dare un contributo anche economico A tutti coloro che si trovano poi Nelle condizioni di difficoltà A causa di un decesso di un proprio familiare E allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro È un gesto concreto, significativo Poi a noi sta anche la responsabilità Di contribuire nel quadro della normativa nazionale Ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro Perché le cosiddette morti bianche Vedere morire una mamma giovane, una ragazza Ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita Altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro È insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle E che dobbiamo in qualche modo eliminare Nel senso che dobbiamo migliorare la normativa E quindi ridurre questi tragici eventi Il Vescovo durante l'Omelia ha detto una cosa molto forte Luana e tutti i morti sul lavoro Sono tutti in piedi davanti a noi Che ci stanno chiedendo giustizia e tutela Ecco dovremo fare probabilmente un fondo Istituire un fondo non soltanto per Luana Dorazio Ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse Soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio E magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro Dovremmo pensare a tutti loro E ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro È una grandissima sconfitta per la Toscana Torniamo a una settimana fa Quello che è stato l'appuntamento precedente di dentro il Consiglio C'è un aggiornamento L'ufficio di Presidente del Consiglio regionale ha nominato L'ufficio di Presidenza provvisorio della Commissione speciale sui vaccini Ne fanno parte i consiglieri Enrico Sostegni del Partito Democratico Già Presidente della Commissione Sanità Marco Landi della Lega Andrea Vanucci del PD La nomina è giunta secondo quanto stabilito da regolamento interno dall'Assemblea Dopo che nella seduta di insediamento della Commissione Non era stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'ufficio di Presidenza Della Commissione speciale Quello che è appunto il tema che abbiamo affrontato proprio nello scorso appuntamento Ma parliamo invece di un'altra Commissione Ascoltiamo anche appunto coloro che sono i componenti Si è tenuto un insediamento lunedì 17 di maggio Della Commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose E della criminalità organizzata in Toscana La Commissione è composta da rappresentanti per ogni gruppo consigliare Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia Lucia De Robertis del Partito Democratico Irene Galletti del Movimento 5 Stelle Elena Meini della Lega Maurizio Sguanci di Italia Viva E Marco Stella di Forza Italia Questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine E di tutti i cittadini della Toscana Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche Qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto E gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare Ci fanno preoccupare tanto E per questo è necessario che quella Commissione vada in profondità Audisca tutti i soggetti che possono essere interessati E costruisca le condizioni Perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose Purtroppo lo abbiamo visto In Toscana la mafia c'è Esiste E il compito della Commissione dei consigliari regionali Deve essere quello di far sì che si applichino Si studino delle nuove norme Per far sì che tutto ciò non si ripeta Dal punto di vista ambientale Dal punto di vista sociale Soprattutto per il periodo di pandemia Che stiamo attraversando La crisi economica che ci ha travolto Purtroppo attira anche questa criminalità organizzata Quindi il nostro compito in primis Sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana Studiare il mondo imprenditoriale E far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose Non si ramificano nella nostra Regione Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti o corsi Perché quello è compito della Magistratura Ci sono indagini in corso Quindi non saremo noi ad intralciarla Cercheremo di contattare tutte le prefetture Per capire lo stato dell'arte Che la fragilità in questa Regione In qualche modo ha apportato La pandemia ha apportato questa fragilità nella Regione Chiaramente in un momento di così grande difficoltà economica Per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo Noi cercheremo di capire quali sono le criticità In modo da poterle poi prevenire Portandole alla luce del sole E poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti E noi li terremo necessari in Consiglio Affinché tutto questo venga scongiurato Riuscire attraverso le deduzioni Di ascoltare tanti soggetti E di capire se la normativa regionale Davvero riesce a mettere in sicurezza Questa Regione dalle infiltrazioni mafioso Per lo meno fa quello che può fare Rispetto alla capacità e alla possibilità Che abbiamo noi di normare Tutta una serie di attività Per evitare che chi vuol fare della Regione Una terra dove tutto si può fare Ha sbagliato Regione Noi come tutti i toscani ci aspettiamo Trasparenza, ci aspettiamo informazioni Ci aspettiamo di capire la realtà Non soltanto dai rapporti economici Che vedono purtroppo coinvolta anche La mafia, l'andrangheta nel territorio toscano Quanto di capire l'entità del disastro ambientale Che determinate operazioni hanno comportato E conseguentemente ci aspettiamo naturalmente Di avere dati, notizie, informazioni Siano utili al Governo regionale toscano Non solo per tagliare definitivamente i cordoni Con alcuni ambienti malavitosi Ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini Alle imprese pulizia Anche pulizia ambientale E soprattutto la possibilità di operare In un sistema economico corretto Cercare di fare un'esatta panoramica Della situazione ambientale in Regione Toscana Che ha coinvolto Diciamo non soltanto lo scandalo che è Ma anche altre iniziative Dove ci siano coinvolgimenti Della criminalità organizzata E cercare anche di fotografare Quelle che sono le carenze Del Consiglio regionale e della Giunta Per quanto riguarda la permeabilità A fenomeni di tipo corruttivo Ma anche e soprattutto Di infiltrazioni, di organizzazioni malavitose E connotazioni di carattere mafioso E su questo devo dire Che è un peccato non aver sfruttato Le indicazioni che sono arrivate Dalla Fondazione Caponnetto E dalle molte persone che sono state audite Nel 2018 Durante la commissione di inchiesta rifiuti All'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle Ciò che è emerso da quella commissione E dalle audizioni Sarebbe stato già fondamentale Per non arrivare alla situazione In cui oggi ci troviamo Passa a maggioranza Dopo un lungo confronto La legge regionale Per le celebrazioni dei 700 anni Dalla morte di Dante Alighieri L'atto nominativo Presentato dalla quasi totalità Della commissione culture È stata approvata Con il voto favorevole Del Partito Democratico E tra le viva Movimento 5 Stelle Il voto contrario Di Fratelli d'Italia Forza Italia E l'assenzione della Lega Dante ha avuto con Firenze Un rapporto tormentato E ha sofferto Quindi è andato a morire Fuori dalla Toscana Allora poterlo ricordare In un momento così Significa anche fare i conti Con la nostra storia La storia non si cambia Ma si studia Si approfondisce Se ne sottolineano Gli elementi di identità E non c'è dubbio Che Dante Alighieri Per i toscani Sia un elemento di forte identità Con questa iniziativa Vorremmo dal Consiglio regionale Mandare alcuni messaggi E fare anche un piccolo investimento A sostegno delle attività Di produzione culturale Quindi il Consiglio regionale Stanzierà 100.000 euro Per progetti Da far rientrare In questo piccolo calendario Di attività Promosse dal Consiglio stesso Noi abbiamo scelto Di votare contrario All'istituzione Della legge su Dante Siamo certamente favorevoli A ricordare Dante A 700 anni Dalla sua morte Sappiamo anche Che l'infrastruttura Più importante Che questo paese ha È l'infrastruttura culturale E su questo Dobbiamo puntare Però abbiamo anche Consapevolezza Di cosa stiamo facendo Mettere oggi 100.000 euro Del Consiglio regionale Dei soldi Dei cittadini Per ricordare Dante Quando la Giunta Ne ha già messi 200 e quindi Sommandoli Si arriva a oltre 300.000 euro A noi Sembrava eccessivo Le famiglie Non arrivano a fine mese Molte delle nostre aziende Stanno chiudendo Molte delle attività commerciali Non riusciranno a riaprire Post pandemia Crediamo che le risorse Debbano essere Non soltanto gestite Come il buon padre di famiglia Ma anche in maniera Molto oculata Ecco perché Abbiamo votato Contrario Perché la legge È tardiva Perché c'è già La Giunta regionale Che ha investito 200.000 euro Se si vuole fare Qualcosa Su Dante Di estremamente serio Lo si doveva fare prima Guardate Il 25 di marzo È il Dante Day Ecco Il 25 di marzo È già passato Dante muore Nella notte Fra il 13 e il 14 di settembre È giusto Che il Consiglio regionale Lo ricordi Con una seduta Solenne Solenne Entro il 30 di settembre Però ci sembra Davvero eccessivo Mettere 100.000 euro In sei mesi Perché se andiamo a vedere Sono semplicemente sei mesi Quelli È l'arco del tempo In cui noi potremmo fare Delle iniziative Ecco La Giunta fa bene A stanziare 200.000 euro Per ricordare Dante Ma ci sembra Che il Consiglio regionale Non debba In questo momento Metterne altri 100 Ma quei 100.000 euro Debbano andare a sostenere Famiglie Da imprese Che sono estremamente In difficoltà Dante non rappresenta Solo la Toscana Ma direi che Rappresenta l'Italia Nel mondo 700 anni Sono tanti E è ancora molto attuale Infatti Diciamo che Stiamo passando Dall'inferno Al pubblicatorio Con quello che ci è successo In quest'ultimo anno E si spera veramente Di rivedere le stelle Presto E parafrasando Dante Noi ci ritroviamo qui Tra una settimana A rivedere Quello che accade All'interno Dell'Assemblea regionale Grazie Per essere stati con noi Per tutti i ragionamenti Ve lo ricordo www.consiglio.regione.toscana.it Noi ci ritroviamo qui Tra sette giorni Dentro il Consiglio Grazie a tutti i ragionamenti